in ogni territorio ci sono delle cantine anche dei personaggi che hanno fatto la storia in relazione anche al vino ovviamente questo è il nostro focus se parliamo di false quindi del palatinato tutti puntano immediatamente il dito verso la cantina fitz ritter e verso oannes fitz che è forse il personaggio più emblematico del territorio che è in grado di esprimere sotto tutti i punti di vista quella che è l'essenza del palatinato ioannes dobbiamo fare un passaggio indietro oggi troviamo a dirigere la cantina fitz ritter e oannes che rappresenta la nona generazione che ha ereditato l'azienda da conrad dal padre che rappresentava l'ottava generazione che negli ultimi 30 40 anni aveva già guidato comunque l'azienda a successo parliamo un'azienda di 25 ettari quindi abbastanza grande per quelle che sono le dimensioni appunto medie del territorio ma non un'azienda ovviamente che va verso le caratteristiche più industriali parliamo sempre di artigiani del vino ma perché questa famiglia è così importante poi lo capiamo in funzione di quello che stanno facendo oggi è così importante perché hoannes fitz è stato il personaggio che nel 1832 quando ci fu il cosiddetto festival di ambac che vide la nascita della democrazia in in germania come concetto lui ebbe la volontà la forza di andare a dimostrare e rappresentare i viticoltori i vignaioli del del tempo per quanto riguarda appunto il disagio che stavano vivendo una protesta che passò alla storia tant'è che si può leggere comodamente il nome di johannes proprio nei libri di di storia che vengono dati anche ai bambini in in germania quindi un personaggio che è diventato di culto per la cultura generale non soltanto per la cultura del del vino azienda comunque incarna alla perfezione tutti quelli che sono i principi base di questo territorio intanto perché siamo nei pressi di baddorkheim quindi una delle città più più grandi in assoluto più e più importanti un po perché ha guidato con le nuove generazioni proprio il territorio nei vari momenti storici anche di difficoltà verso il successo ad ogni modo la protesta di johannes non passò ovviamente inosservata e lo mise in una posizione di doversi rifugiare in francia rifugiandosi in francia johannes pensò bene di affinare le sue tecniche vitivinicole e quindi si spostò verso la champagne per andare a studiare quelle che erano le nuove tecniche di spumantizzazione rientrando in in patria poi nel 1942 quindi dopo dieci anni dal momento della rottura proprio con con il suo paese iniziò a una produzione di vini spumanti in metodo classico in metodo champenoise fino a diventare addirittura fornitore di vari di vari nobili questo è uno dei punti di di lettura nei punti chiave di questo territorio perché grazie a johannes fitz la cultura della spumantizzazione è diventato qualche cosa di molto legato al palatinato nonostante le produzioni non siano così grandi la l'azienda fitzritter oggi rappresenta la seconda casa di spumantizzazione più vecchia in assoluto in in germania e la prima per quanto riguarda ovviamente il territorio del palatinato ma ha rappresentato un percorso molto interessante importante perché sono stati anche tra i primi ad accogliere all'interno dei 25 ettari di vigna quelli che erano dei vitigni internazionali quindi lo chardonnay ha fatto la sua la sua comparsa ricordiamoci che la vicinanza con l'alsazia gioca un ruolo fondamentale state tra i primi sul territorio a iniziare a puntare forte e chiaro su quelli che erano anche le differenze tra i vari vigneti sono l'azienda fitzritter tra i soci fondatori quindi del chiamiamolo club vdp quello che poi andato a determinare quali vari crew ma anche proprio il sistema dei predica swine quindi un ruolo veramente importante anche su quello che è il percorso storico ma oggi troviamo joan fitz appunto a condurre l'azienda un ragazzo che nel nuovo secolo si è affacciato proprio alla conduzione del di questa realtà storica dopo aver studiato addirittura in california a berkeley quindi tornato ha continuato quello che era il lavoro di crescita che il padre aveva impostato ma con un focus molto forte perché si dice sempre che l'azienda fitzritter è tra quelle che ha i piedi più saldi in quella che è la tradizione ma anche di quelle che ha la visione per poter innovare e i vari antenati lo hanno dimostrato più e più volte tant'è che johannes quindi il diciamo il capo stipite dell'azienda ha proprio un ruolo per quanto riguarda la cultura enologica tedesca ai viene attribuito riconosciuto da tutti mentre tornando a johann ha portato avanti tutto quello che è lo stile consideriamo che questa azienda è in grado di produrre dei vini rossi che sono incredibili per qualità forse non va a esaltare proprio quelle che sono le caratteristiche tipiche ovvero del divini più più esili cercano di caricare un po di più il pino noir con un passaggio in legno misto di circa 18 mesi però con una selezione proprio del dei vigneti che è quasi maniacale il risultato è un vino rosso con un io direi quasi un cuore di ciliegia anche se sembra una pubblicità di un gelato ma perché il focus veramente a quello di tirar fuori il frutto come effettivamente avviene nel territorio del palatinato e poi di saltare la spezia qui abbiamo però più struttura più corpo rispetto a quello che ci potremmo aspettare quando magari parliamo di pino noir e ci immaginiamo essendo non troppo lontani dall'alsazia un certo tipo di di stile qui non siamo in quella direzione siamo nella direzione della generosità nonostante il vino rimanga sicuramente molto molto elegante però quello che oggi contraddistingue l'azienda è che con il riesling hanno raggiunto dei livelli qualitativi molto importanti che gli vengono appunto riconosciuti anche dalla critica internazionale ma molto interessante vedere quella che è la continuità che si è legata appunto alla spumantizzazione perché sono vari gli spumanti che popolano le riserve della cantina oggi ce ne sono tre che forse su tutti spiccano per diciamo anche punti di vista molto molto differenti c'è palatinum che altro non è che un blend di pino grigio di pino bianco e di chardonnay quindi è quasi un omaggio quella cultura mista che possiamo trovare con sette anni di permanenza sui lieviti gli spumanti tendono a essere praticamente tutti brut ricordiamo che in germania si chiamano sect e la versione brut però è forse la versione più apprezzata in assoluto perché poi utilizzando questi tre vitigni riescono a portare una sorta di cremosità incredibile anche grazie alla permanenza sui lieviti che è molto prolungata cercano di esaltare di nuovo il frutto e qui andiamo verso dei frutti che sono sicuramente più più tropicali che che nostrani proprio a voler evidenziare voler sottolineare quella che è la materia la maturità che possiamo trovare e il sole il sorso comunque sempre molto elegante lo stile in generale di fitz ritter è uno stile legato alla potenza legata alla luce al sole alla spezia e poi questa nota di mineralità che troviamo su tutti i vini indipendentemente dal vitigno indipendentemente se parliamo di spumatizzazione o no o di vino bianco o vino rosso c'è anche una versione 100 per cento pinot noir quindi un rosè in realtà molto interessante per quanto riguarda la gamma del degli spumanti e qui è l'agrume invece che gioca il ruolo più 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 importante anche se un agrume ben ben maturo quasi un'arancia sanguinella ma è elegantissimo considerato uno dei rosè migliori in assoluto prodotti in germania e poi possiamo concludere invece con quello che è proprio l'omaggio da parte dell'azienda la tradizione più teutonica la tradizione più tedesca ovvero il sect lo spumante sempre brut prodotto con il riesling in questo caso si porta il riesling a dei livelli di eleganza incredibili intanto facciamo riferimento ad un cru storico che è quello di ok ben dove vengono coltivate allevate le viti di riesling l'uva è sempre bella matura però non si cerca mai di andare verso la sur maturazione quindi non cerchiamo di esaltare troppo il corpo la struttura o la polpa che comunque troviamo già nel loro nel percorso di normale maturazione proprio del del vigneto quindi quello che viene poi fatto quello che viene creato è un perfetto omaggio alla spumantizzazione a base riesling uno spumante che risulta sempre cremoso perché questa diventa una delle caratteristiche principali ma ritroviamo quella nota di pompelmo che è tipica del riesling che qui viene esaltata fino all'inverosimile tant'è che il naso risulta molto molto fresco nonostante un lungo tempo di permanenza sui lieviti in bocca ritorna comunque il tema della della materia un uno spumante che risulta veramente lungo e persistente siamo davanti appunto a una delle aziende che ha potuto nel tempo perché stiamo parlando comunque dal 1842 ad oggi affinare fino in fondo quelle che sono le tecniche legate alla cultura appunto di champagne l'idea è quella di andare a unire il mondo francese al mondo del palatinato e l'hanno fatto alla perfezione però dicevamo giusto per concludere che l'azienda Fitzritter ha svolto un ruolo importantissimo appunto nella cultura tedesca in generale ma ha fatto anche tantissimo per per il territorio oltre aver guidato le proteste basti pensare che la sfera che si trova sottoterra fondamentalmente è un rifugio anti antibomba che nella seconda guerra mondiale ha ospitato tantissimi cittadini di Bad Dorkheim proprio per cercare di far sentire la cantina vicino alla comunità e quindi c'è proprio un rapporto strettissimo tra le persone del palatinato tra i abitanti e quello che è la cantina e Johan sta portando avanti questo rapporto con dei vini eccezionali grazie a tutti Grazie a tutti